Il ristorante Zafferano è situato nella suggestiva e nota località marittima di Rimini. La location vanta splendidi spazi e una vista mare spettacolare e si propone come ambientazione perfetta per un evento all'insegna del romanticismo e dell'eleganza. La location dispone di spazi interni sofisticati e arredati con buon gusto e stile. L'ampia sala si adeguerà alle vostre esigenze fornendovi le basi per le decorazioni ploreali e gli allestimenti che meglio rispecchino lo stile della vostra festa. Sarete così accolti in un ambiente raffinato e illuminato da grandi vetrate che si affacciano sui suggestivi spazi esterni, i quali ospitano anche una meravigliosa piscina. Passione e professionalità sono gli elementi che descrivono il servizio che il ristorante saprà garantirvi. Lungo tutto il percorso del vostro ricevimento, infatti, sarete accompagnati da esperti del settore, i quali saranno lieti di fornirvi le indicazioni migliori per un risultato impeccabile. La gastronomia si basa su pietanze della tradizione marinara del luogo, rivisitate e rielaborate in chiave più moderna dalla maestria dello chef. Insieme a lui potrete decidere tra un ampio ventaglio di proposte, la composizione del menù che preferite per il vostro banchetto nuziale, il quale saprà stupire anche l'ospite più esigente. Inserito nella prestigiosa struttura del National Hotel di Rimini, il ristorante Zafferano sarà la scenografia magica ed esclusiva per un indimenticabile matrimonio.